Immagina di tenere tra le mani una bottiglia di vino, di olio o un'altra eccellenza gastronomica del nostro territorio e poi, con un semplice gesto, inquadrando l'etichetta con il tuo smartphone, apri le porte a un mondo fatto di sapori, passioni e tradizioni. È il mondo di Are Alchemy che ti invita a scoprire le caratteristiche di un prodotto, le tecniche che lo rendono unico, le terre da cui nasce. Con Are Alchemy ogni volta che scansioni un'etichetta ti immergi di un'esperienza autentica che deve entrare in connessione con il territorio e con le persone che lo animano. In un mondo sempre più attento alla provenienza dei prodotti e alla sostenibilità, Are Alchemy offre una risposta concreta. Grazie alla sua tecnologia, infatti, puoi conoscere ogni segreto nascosto dietro il marchio di un prodotto, qui che Are Alchemy contribuisce a valorizzare. Un modo per gustare il cibo, sapendo che stai facendo del bene a te stesso e all'ambiente. Con Are Alchemy il marchio di un prodotto diventa una porta d'accesso e un esperienza unica. Grazie a tutti.